Buongiorno, siamo a Paracu con il Rotary Club di Paracu che ci sta aiutando per un bellissimo progetto con l'ospedale di San Padre Pio, Andali. Siamo qui con il dottor Fidel, Jennifer che viene da Sudafrica, fisioterapista. Siamo qui con l'OG Boccovo che è del club di Paracu con il dottor Gerard Botton e tutti i membri del Rotary Club di Paracu. Bravo, bravo all'Italia, noi siamo i membri del Rotary Club di Paracu. Noi acceptiamo questo partenariato per una una bella relazione servita autrui. Grazie. Ok. È finito. Bon, tu attacchi. Non, tu pausas. Grazie.